Ciao raga, stiamo per vedere in aiuta la bambina che ha preso in affidamento Denji che è la reincarnazione di Makima e quindi del diavolo dominio? Sembrerebbe proprio di sì. Siamo nel capitolo 118 di Chainsaw Man e vediamo che c'è ancora Yoru con la mano nella fronte di Denji a dirgli spada colonna vertebrale Denji, spada colonna vertebrale Denji e ripeterlo più volte. Ed Denji nella sua grandissima innocenza risponde mettendogli una mano sulla fronte perché non lo riusciva a trasformare e gli dice spada colonna vertebrale Asa e gli dice che bella e divertente questa forma di saluto, ti saluto, ciao. E' incredibile questa scena perché sapevamo che non l'avrebbe trasformato, sapevamo che non poteva finire così, sarebbe stata una cosa da Fujimoto ma non poteva andare in quel modo lì. Però risponde subito alla domanda che ci siamo fatti nel capitolo precedente. Ma gli altri vedono la versione di Asa, quindi Yoru con la cicatrice? Pare di no perché sennò qualche domanda per quanto tanto 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 innocente e sempliciotto, Denji dovrebbe averlo notato. Questo è un capitolo che è pieno di scorci di vita reale ed è stupendo perché vediamo una Yoru molto più pragmatica che dice ma perché non ce l'abbiamo fatta a trasformarlo, sembrava fatta, era già presa quest'arma. Invece dall'altra parte abbiamo Asa che dice ma perché non gli piace dopo l'appuntamento, dopo quello che mi ha detto, dopo quello che abbiamo passato, perché non sono riuscito a trasformarlo? Magari non volevo in cuor mio, però perché non ce l'ha fatta Yoru? Non gli piace davvero? Ed è quella cosa adolescenziale che ti fa capire proprio come Fujimoto voglia anche entrare nelle cose reali della vita e non voglia tenere tutto in un ambito di diavoli, mostri, reincarnazioni. Ed è davvero piacevole leggere queste cose. Ma lo sta già facendo da un po' in questa seconda parte. Ne avevamo anche già parlato come ad esempio le difficoltà sociali che hanno sia Denji che Asa. La risposta del perché non è stato trasformato potrebbe sembrare ovvia ed è non puoi trasformare Chainsaw Man, l'arma definitiva, in un'arma tecnicamente più debole. Però dall'altro lato abbiamo anche un Asa che probabilmente essendosi davvero affezionata ad Enji o almeno quest'idea dell'innamoramento, dell'infatuazione per quello che hanno vissuto non voleva farlo e quindi ha trattenuto il potere di Yoru. Però prenderei un po' più per la prima. Cambiamo scena, arriviamo al giorno dopo e riparte comunque la questione della vita reale dove Denji dice abbiamo un appuntamento, andiamo a vedere dei film e gli cita però il prezzo di questi film e Asa giustamente si spaventa dal prezzo perché sono degli adolescenti che vivono da soli, vabbè Denji in una situazione un po' più particolare ma Asa vive da sola e comunque anche il fattore economico è estremamente importante non solo per Denji che fa quel che fa e abbiamo scoperto il perché lo fa quindi per dare un futuro migliore a Nayuta ma lei ha anche, quindi c'è proprio la vita reale trasportata in questo mondo particolare è cruento e crudele e allora vengono alla conclusione di andare a casa di Denji affittando un film ma qua arriva il bello Denji le dice va benissimo, vieni a casa ma ci sono delle regole ferre da rispettare perché se non dovesse rispettarle potreste addirittura morire e lì vediamo anche il presidente del club di cacciatori che è lì che spia fa addirittura morire ma io adesso mi immagino questa scena divertentissima lui che cerca di spiarli e arriva Yoshida che gli fa stai buono lì, fatti affari tuoi che la vita deve andare come deve andare no? ovviamente come dire non rovinare il loro appuntamento per lui, ma per Yoshida potrebbe sapere molto di più di quello che pensiamo sappia c'è una cosa molto interessante che è il dialogo tra Asa e Yoru dove parlano del diavolo fame nel video precedente parlai di un pseudo accordo tra Yoshida e proprio il diavolo fame perché c'è uno sguardo di intesa c'è uno sguardo come dire sapevo che tu eri qua sapevo cosa volevi fare ma a sto giro si è risolta ma l'avrei magari risolta io perché potrebbe essere tra di loro un accordo ma allo stesso tempo cercano di fregarsi a vicenda e qua potrebbe davvero prendere questa piega interessante questa direzione perché quando parlano del diavolo fame Yoru gli dice non l'avevo riconosciuta perché non la vedevo da tanto tempo ma quella è pazza quindi non averci mai a che fare e qua se si riproporrà e sicuramente il diavolo fame si riproporrà perché potrebbe essere la sua saga come nemico principale potremmo vedere una costrizione all'inizio ma poi magari un alleggerimento un lasciarsi andare di Yoru per allearsi addirittura con Censomen e andare a sconfiggere direttamente il diavolo fame o magari con Censomen non si allenerà mai perché non si vedranno mai in questa saga almeno prima di sconfiggere appunto il diavolo fame e a proposito di diavoli ritorniamo a Nayuta e al fatto che se non rispetti le regole a casa di Denji potresti morire e come lo dice lui che tiene lo sguardo basso sembra davvero triste sembra ricordarsi del fatto che lui è magari morto più di una volta perché non ha rispettato le regole e ricordiamoci che Nayuta è appunto la reincarnazione del diavolo dominio il diavolo dominio ha una certa caratterizzazione e lo vedremo anche in Makima quindi potrebbe avere imposto delle regole che tutti devono rispettare ma proprio per suo comportamento magari vuole bene a Denji ovvio che gli vuole bene perché Denji vuole bene a lei e lo si capisce dalle frasi che ha detto nello scorso capitolo ma comunque la sua forza il suo diavolo non gli permettono di vivere bene al 100% quindi deve per forza imporre queste regole magari costretta ad imporle proprio per vivere bene e non farsi diciamo superare sul classare dalla volontà del diavolo e qua attenzione perché Fujimoto si ispira a Nayuta su una sua short stories nelle sue short stories che sono state anche pubblicate in Italia in versione cartonata o meno che sono molto molto interessanti quindi vi consiglio di leggerle c'è proprio in copertina una che è palesemente uguale a Nayuta che è una bambina che vive con il fratello ed ha dei poteri lei molto molto particolari ed ha un comportamento molto molto particolare addirittura sembra non capirsi con il fratello però il fratello è l'unica persona a cui vuole bene e addirittura va in giro a fare un po' di casini fa uccisioni di bestiami e tutte queste cose qua però poi quando ritorna a casa non fa mai nulla al fratello e sembra quasi una ispirazione e se davvero sarà così ne vedremo delle belle perché percepirà magari la presenza del diavolo guerra in Asa e potrebbe impogli delle regole molto particolari e potrebbero succedere dei bei casini in quella casa io non penso che quell'appuntamento sarà un appuntamento perfetto a meno che a meno che non si riesca a ribaltare la situazione quindi un Denji super preoccupato invece non avrà nulla di cui preoccuparsi perché sia Asa che Yoru in combo riusciranno a farsi voler bene da Nayuta perché magari da una parte Asa con l'innocenza della bambina di tutte queste cose qua e dall'altra parte Yoru con la percezione di chi c'è all'interno di quel corpo là e che quindi vuole farsela mica proprio per magari scoprire chi potrebbe essere Chainsaw Man e qua sarà un intreccio divertentissimo infatti io non vedo l'ora di leggere il 119 perché sappiamo che Fujimoto è molto sequenziale quindi non andrà a fare almeno ad oggi degli spezzoni esterni dove non vedremo quella cosa là e quindi ci vediamo al prossimo capitolo il 119 ciao